Entra il numero 14, Centofanti, esce Zarate, lo stop di Ruggeri, tutta l'Anconi in avanti, Ruggeri pesca bene, Pecoraro dall'altra parte, lo stop di Pecoraro, trova lo spazio per effettuare il cross, Centofanti, sforbiciata volante, traversa, Agostini, grandissimo gol di Agostini del 4-4, gol da antologia. La sforbiciata volante di Centofanti, un gesto atletico stupendo, pareggiato immediatamente dal tempismo incredibile di Agostini su un pallone difficile che aveva picchiato sulla traversa, Agostini ha seguito la traiettoria, si è voltato, ha trovato il tempo di coordinarsi e si è esibito in una fantastica sforbiciata. La seconda nel giro di pochi secondi che porta l'Ancona sul risultato di 4-4.